Ciao a tutti ragazzi, siamo Ferry95it e siamo in diretta al canale di Palmon League E oggi finalmente ci sarà la seconda parte del box di Cold Flare E' un box fantastico, che finora abbiamo trovato questo fantastico Cardio X E' molto bello, fantastico, una carta che volevo trovare Più una Ace Pack che ho già messo in mezzo alla collezione E' che vale molto, e niente Prendiamo il nostro pacchetto Giornaliero, qua ci sta il box Freeze and Bolt, che apriremo poi Ai nostri cinque pacchetti, uno, due, tre, quattro e cinque Allora, ci sarà sempre mio fratello che mi aiuterà con i nomi Apriamo i pacchetti Allora, è un box veramente fantastico, vi faccio vedere le bustine che ancora non vi ho fatto vedere, guardate Vedete? Bellissime E niente, allora Saluta Gabriele, di ciao Ciao Allora Voglio salvare le bustine se ce la faccio Ma è molto, ma molto difficile, è una cosa impossibile ragazzi Giusto facendo così le puoi un po' salvare Fai così, aspetta Fai giusto così, ecco salvata un po' la bustina Carina, carina E vediamo un po' Abbiamo questo Come si chiama questo? Eh, come si chiama questo? Eh, due scorsi Sì Poi ci abbiamo, Sandware Disparagio Oh, Electroire Holo Fantastico Guardate E, esploda Doppione Guardate questo che fantastico, Electroire Holo Fantastico La nostra prima Anzi no, la seconda E, Holo del set Continuiamo Al secondo pacchetto Che sarebbe il settimo pacchetto che stiamo aprendo Allora Apriamo il pacchetto Apriti Ecco qua Cold Flare Allora E abbiamo Numel Skarmory Oddio questo come si chiamava Non mi ricordo mai raga Poi abbiamo Conkeldur E Kamerupt Eccoli qua Mettiamo le carte qua Apriamo il Ottavo pacchetto Belli Siamo in una ex full art Mamma mia raga Magari Ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook E alla Raffle Link saranno in descrizione Ecco qua Pacchetto E abbiamo questo Questo mi si chiama Come abbiamo? Swaddle Swaddle Squirtle Lillipop Garvantula E Crocant Mi sembra si Crocant Bellissimo Ultimi due pacchetti Se si chiama Questo lo voglio salvare Voglio fargli così Facciamo pure prima raga Ecco qua Abbiamo questo Sandrash Tangela Patrat Blastoise Solo E Swanna Fantastico questo Blastoise Solo Che dovete vedere che ragazzi Che le Oro giapponesi C'hanno anche Le righe qua Sono Oro anche I bordi Sono veramente Fantastiche Questo Fantastico Blastoise Meno male Fantastico Ragazzi Fantastico E andiamo qui Con l'ultimo Pacchetto Di oggi Andiamo un po' Facciamo sempre Stessa cosa Ecco qua E abbiamo Questo Pentil Non mi sembra si chiama Pentil Si L'altro Sandrash Un Crocant Vabbè Uuuu L'altra Ace Pack Questa Mi sembra Che è quella Di Kyurem Bianco Non so Però ho letto Che Una cosa E Galvantola Così ci abbiamo Tutte le due Le Ace Pack Ragazzi Fantastica Apertura E questa Non Mi ricordo Che era collegata A Kyurem Bianco In qualche modo Però non mi ricordo E Vabbè Fantastica Ace Pack E Niente Per questo video È tutto Ragazzi Fantastica Apertura Abbiamo trovato Ben Tre Holo E Niente Vi ricordo Di seguire La terza Parte Di questo Fantastico Fantastico Box E niente La Ferri Conte 5 È tutto Iscrivetevi Commentare Mettete Mi piace Federic Ricambia Sempre Iscrivete La pagina Facebook Tutti i link In descrizione E niente Mettete un bel Mi piace Per questo Bellissimo Blastoise E Ciao Ciao